Abbiamo trovato un processo amministrativo che ci consente adesso di sostituire la multa con l'avviso di cortesia, cioè l'utente non troverà più la multa ma troverà un avviso che gli permetterà il pagamento fino alle ore 24 dello stesso giorno. Stiamo verificando questo processo con la prefettura, ieri c'è stato già un primo incontro, ci sembra che ci siano tutte le condizioni, quindi nei prossimi giorni potremo procedere se tutto viene confermato. Per alcune zone prevedete degli abbonamenti a prezzi calmierati? Sì, esatto, ci saranno abbonamenti nelle aree del centro storico, sono alcuni stalli a 80 euro al mese. Vogliamo calmierarli per alcune categorie come residenti prevedendo uno sconto anche del 50%, questo in base anche alle somme che l'ente incasserà dal soggetto gestore. Poi ci sono degli abbonamenti specifici per i residenti pendolari, ad esempio per quelli che lasciano la città per lavoro. Loro pagheranno 50 euro all'anno per parcheggiare dalle 18 fino alle 9 del mattino dopo, quindi consentire loro di poter parcheggiare prima di andare al lavoro e poter tranquillamente parcheggiare quando si rientra da lavoro. Poi ci sono degli abbonamenti a bassissimo costo sul campo Boario 15 euro al mese e sulla grande area della stazione a 20 euro al mese. L'avviso si può pagare direttamente dai parcometri che installeremo, parcometri che stiamo sostituendo perché è una tecnologia vecchia che abbiamo dovuto installare per la difficoltà di reperire dei chip, l'azienda ha avuto questa difficoltà, ma entro l'anno verranno tutti sostituiti. Avete fatto anche uno studio, la provincia di Teramo è tra le province con il più alto numero di veicoli di proprietà? Sì, esatto. Questo è nello studio preliminare per il piano urbano della mobilità sostenibile, rileva questo dato. Siamo il comune che ha più auto per numero di abitanti, quindi da questo si genera una grande necessità della sosta, ma finalmente dotarsi di uno strumento come il piano urbano della mobilità sostenibile che ci dà la possibilità di dare una risposta a tutte quelle domande lecite, legittime, che i cittadini oggi hanno, compresi i residenti e i commercianti. È lo strumento che ci permetterà finalmente di dare la facilità del parcheggio nella città di Teramo che notoriamente non ha questa facilità, ma è un processo corretto che ci porterà a questo. In quanto a mobilità torneranno i monopattoni comunali? Allora, sulla mobilità sostenibile, quello è un esperimento che fanno le aziende esterne proprio perché probabilmente siamo la città che usa di più le auto nella nostra provincia, nella nostra regione. Siamo la città che ha dove si trova meno successo su queste nuove tecnologie, su queste nuove modalità di trasporto. Quindi è una riflessione che dobbiamo fare proprio nel piano urbano della mobilità sostenibile perché arrivare a Teramo deve essere facile, non bisogna perdere tempo e bisogna far sì che sia anche un'esperienza positiva per chi arriva in città.